Ciao a tutti, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme cosa succederà nelle puntate di My On My Destini, che andranno in onda dal 30 agosto al 2 settembre. Emine si trovava in fase di preparazione per un evento misterioso, e Sultan, ignaro di chi fosse l'accompagnatore di sua figlia, cominciò a porle una serie di domande indiscrete sul suo nuovo fidanzato. Le risposte evasive di Emine non lo scoraggiarono affatto. In realtà, Sultan decise persino di seguirla discretamente, determinato a scoprire chi fosse l'oggetto del suo affetto. Nel frattempo, Medi e Zeynep sembravano ancora distanti, ognuno cercando di seguire la propria strada. Ma presto, Zeynep prese una decisione che avrebbe sconvolto il loro status quo. Anche Zelia, a sorpresa, prese una decisione importante che avrebbe scosso Medi e Zeynep, non suscitando certo la loro approvazione. In questo intricato episodio di relazioni che si spezzano e si rimendano, pochi erano in grado di trovare gioia, mentre molti erano condannati a soffrire. Faruk, in particolare, si trovò costretto a allontanarsi da Emine per ragioni che erano al di fuori del suo controllo. L'intera famiglia si riunì a casa di Medi per discutere della delicata questione del bambino di Benal. Nermin arrivò con l'intento di portare via Zeynep, cercando di evitare uno scandalo imminente. Tuttavia, la figlia respinse categoricamente tale idea, affermando di voler prendere decisioni autonome. Zeynep e Medi, intanto, ebbero una conversazione a cuore aperto. Zeynep si mostrò disposta a accettare la situazione del figlio illegittimo e a non abbandonarlo. Nel frattempo, Emine scappò di casa, lasciando un biglietto per sua madre Sultan, e si recò a casa di Faruk, dove venne accolta con affetto. Le famiglie di Zeynep e Medi si riunirono per un pranzo. Nermin propose di trascorrere alcuni giorni nel suo albergo come segno di benevolenza verso Medi e la sua famiglia, ma Sakine sembrò contrariata. Sultan, rimasta sola a casa, piangeva per l'abbandono di Emine. Strappando una foto della figlia, giurò di dimenticarla. Quando la famiglia si apprestava a partire, improvvisamente si presentò anche Sultan, cercando di giustificare la sua assenza con una scusa. Dopo il loro matrimonio, Zeynep e Medi decisero di fare una scelta non convenzionale per la loro luna di miele. Con l'aiuto di Nermin, organizzarono una vacanza presso un hotel di proprietà di Faruk, situato in un incantevole angolo di paradiso. Non erano soli in questa avventura, infatti, portarono con sé Nu, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan, rendendo la vacanza un'occasione per riunire la famiglia. Allo stesso tempo, Faruk stava trascorrendo un periodo di relax nel suo stesso albergo, accompagnato da Emine. Tra di loro stava nascendo qualcosa di speciale. Emine, però, venne a sapere della presenza di Zeynep e degli altri ospiti e fu pervasa da una profonda ansia all'idea di incontrarli. Purtroppo, ciò che temeva Emine alla fine si avverò. Proprio quando Zeynep si stava preparando a lasciare l'albergo, si scontrò con Emine in un incontro tanto inaspettato quanto sconvolgente. Nel frattempo, Benal, stanca di rimanere nella sua casa, decise di trasferirsi nuovamente da Medi. Tuttavia, lungo il tragitto, si imbatte nel suo ex marito, Serat, che cercò di costringerla a tornare indietro. Fortunatamente, l'intervento tempestivo di Mujeygan impedì che ciò accadesse. Zeynep e Medi trovarono Benal nella loro casa, mentre stava cercando di riprendersi da questa spiacevole avventura. La situazione non andò giù bene a Zeynep, che avviò una discussione approfondita con Medi. Terminano qui queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti. E se il video è stato di tuo gradimento ti chiedo di lasciarmi un mi piace e di iscriverti al canale, per non perderti le prossime anticipazioni di My On My Destini. Al prossimo video. Ciao!